Cara e il suo fidanzato Anthony si sono lasciati. Ma che cosa è successo davvero tra di loro? Qualche giorno fa Anthony è tornato a casa davvero arrabbiato, accusando Cara di averlo tradito. Per paura che potesse succedere qualcosa di davvero grave, la creator ha deciso di filmarlo e poi successivamente di postare tutto sui social. Anthony era arrabbiato a tal punto che ha spaccato sia la porta della cucina che una stufa. Cara gli ha quindi chiesto di andarsene via da casa loro, ma lui ha detto che non se ne sarebbe andato finché lei non avesse ammesso il tradimento. Un'amica di Cara è arrivata e ha cercato di far ragionare Anthony. L'intera vicenda si è quindi conclusa a luna di notte, quando Cara ha postato un video in cui si mostra mentre chiude la porta di casa. Quindi lasciando intendere che quella notte Anthony ha dormito fuori. In una recente live inoltre Cara ha affermato che ogni volta ha perdonato Anthony anche perché di mezzo c'era sua sorella. Ma che ora non è assolutamente più disposto a farlo ed anzi ha deciso di tagliare i rapporti sia con Anthony che proprio con sua sorella. Come ha affermato Cara, certi gesti non si possono perdonare e il motivo della rottura dunque non è nessun tradimento, ma proprio il fatto che Anthony stava per spaccarle questa stufa addosso. Noi ci accodiamo al pensiero di Cara, la situazione sarebbe potuta degenerare e certi gesti violenti ovviamente non vanno perdonati.